Ieri Salvini ha detto, se Renzi mi chiama, se Renzi chiede un aiuto e un sostegno per andare a piccare i pugni in Europa e per trovare i soldi, io ci sono, vado a piedi a Palazzo Chigi. Appoggio la proposta e io sono del PD e io sono del PD, appoggio la proposta domani mattina. E certo, ma io ho 50 anni che sono scritto in quella PD, come no, come no. Corradino non è più del PD per esempio. E beh, Corradino, io lo so, sono storie di Corradino. Stiamo portando le leggi di stabilità in Commissione, il governo sta facendo miline da quattro giorni, sta prendendo in giro il Parlamento da quattro giorni. E comunque la proposta è molto chiara. Imploriamo. Invece di andare alla Leopolda a parlare di futuro, parliamo di presente. Noi andiamo, diamo tutta la nostra totale e più assoluta disponibilità per aiutare questi 150.000 italiani che sono stati frodati.